Buon pomeriggio popolo solero, popolo del bandito, buon martedì pomeriggio, sono felice perché sto metabolizzando, sto metabolizzando ciò che succederà, quindi questo mi rende sereno, tranquillo, mi fa godere di più del nostro Milan, le aspettative che adesso abbiamo sull'Europa League, insomma sono già più sereno. Però volevo rasserenare anche voi su una cosa molto importante, adesso seguitemi perché vi rasserenerò, prima un like, vi raccomando, iscrivetevi se volete dare forza al canale, vedete che quelli di cui oggi trattano tutti, l'argomento di cui oggi trattano tutti e che a tutti è così evidente oggi, io l'ho tratto da mesi e mesi e mesi e mesi, quindi datemi atto almeno di questo e fatelo con una bella iscrizione al mio canale, vi ringrazio, campanella per le notifiche e se volete fare o farvi un regalo la cover del bandito col coro bellissimo del bandito nel link in descrizione. Allora, vi volevo rasserenare innanzitutto perché ho preso la macchina, sono andato a trovare mia mamma e ero al semaforo che aspettavo venisse il verde e ho chiaramente visto barella che mi rotolava davanti lungo la strada, quindi sta bene, probabilmente è uscito dalla terapia intensiva, sta bene, ha superato il momento critico perché l'ho proprio visto distintamente rotolarmi davanti al semaforo, ha proseguito poi perché sapete che il rotolio non si ferma mai, è un continuo e una cosa, diffidate sempre dei calciatori che rotolano e quando un calciatore si fa male, sono stato un calciatore scarso di eccellenza, di eccellenza al massimo livello, poi sono sceso e mano a mano che l'età aumentava io scendevo di categoria, vi assicuro che quando mi facevo male non mi muovevo, cioè se voi capite che un giocatore si è fatto male veramente, se non si muove in campo, se rotola voi capite che è barella, quindi messo tutti al sicuro su questo, che so che c'è la gente preoccupatissima dopo aver visto le immagini di ieri, c'è la gente veramente che insomma molto 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 preoccupata, sottolineiamo, ecco siccome stamattina mi erano persi un attimo strane tutto questo buonismo di Zangrillo, mi era sembrato strano stamattina, tutto questo garbo istituzionale, tutto questo autocontrollo, tutto questo insomma rispetto delle istituzioni, mi era sembrato un po' strano perché io ricordavo uno Zangrillo parlare di Davide Golia, di furti, di assassini in campo, di tentati omicidi, insomma tutt'altro che garbo istituzionale, tutt'altro che amplombo, no? Invece oggi un pochettino ha derogato, ha derogato e si è guardato bene da attaccare chi non si può attaccare in questo paese, sappiamo benissimo chi, abbiamo capito, occhio di lince, non si può, almeno si può sputare addosso di tutto, tanto si ricevono solo applausi, non c'è problema, si ricevono solo e esclusivamente applausi, di là bisogna mandarci cauti, con i piedi di piombo, tranquilli, garbo istituzionale, rispetto delle istituzioni, perché sapete che lui è un'istituzione, quindi è quello che comanda, però se l'ha presa con Barella oggi, ha detto che l'arbitro è stato tratto in inganno da giocatori che rotolano come pagliacci, ecco, sono parole di Zangrello, io penso che possiamo chiudere qui, tanto ormai tutto è chiaro, a chi vuol capire, chi non vuol capire, non capirà mai, che vi devo dire? Giovedì giochiamo l'Europa League, vi ho detto sono più sereno, fate come me, metabolizzate, iniziate a metabolizzare quello che succederà, io lo dico subito, già da adesso mi dichiaro, io il 21 aprile sarò allo stadio, anche solo per gridare il mio vaffa, ma io il 21 aprile qualunque cosa succeda sarò allo stadio, ok? Messo già questo agli atti, noi però adesso direi che dopo quello che sta succedendo, dobbiamo cogliere l'aspetto che serve a noi, non è molto, è poco, non è un granché, non è che possiamo, però dobbiamo cogliere l'aspetto che ci può fare bene, abbiamo visto tra venerdì e oggi anche, perché le reazioni di oggi sono state totalmente diverse, anzi direi inversamente proporzionali alle reazioni di venerdì, ok? Proprio opposte, penso che abbiamo capito tutti chi è contro, chi non è contro, chi, almeno che uno non è in mala fede, allora se uno è in mala fede e dici di tifare Milan e poi non tifa Milan, e allora lì non si può fare niente, lì può andare avanti per la sua strada, continuerà per la sua strada, ma dal momento che in questa situazione subiamo attacchi da tutto il sistema, io quando parlo di sistema parlo sia di sistema arbitrale, sistema mediatico, sistema politico istituzionale, ad esempio vedrete che noi improvvisamente cominciamo a giocare le partite la domenica alle 3 del pomeriggio, non è un caso, quando bisognerebbe giocarle o la domenica sera o lunedì, noi iniziamo a giocarle alla domenica, al pomeriggio alle 15, questo ovviamente è frutto di tutto quello che ci diciamo da mesi, chi mi segue lo sa, quindi in una situazione del genere a cosa serve unirci a tutto questo che ci arriva contro col fuoco amico, facendoci anche noi stessi del male, tanto allenatore non ne cambiano fino a fine stagione, giusto? Io non so se lo cambieranno a fine stagione, ma anche chi vorrebbe o non ne può più di mister Pioli lo vorrebbe via dalla panchina del Milan adesso, ha capito, penso che fino a fine stagione non ci sarà nessun cambiamento, quindi deponga le armi, non serve a niente, non serve a niente, deponga le armi, almeno non faccia guerra dall'interno, visto che già di attacchi ne subiamo a Iosa direi, e quindi uniamoci, ribaltiamo questa situazione e quando si è attaccati ci si compatta, ci si unisce tutti e si mette la squadra, ci si mette tutti insieme a difesa della squadra, si sostiene, si dà una carica positiva ai ragazzi, i ragazzi tra l'altro, scusatemi, apriamo una parentesi, allora un giorno è Le Auer Paris Saint Germain, un giorno è Teo al Bayern Monaco, un giorno è Mignon da tutte le parti, Bayern inglesi, destra, sinistra, e faccio notare che vogliono solo i giocatori del Milan in Italia, cioè le squadre, le più forti squadre in Europa cercano solo i giocatori del Milan, perché i giocatori della squadra più indebitata del mondo per prenderne una non se li caga nessuno, cioè scusate ragazzi, prendiamo atto di questa situazione, quando parliamo di noi e ci raffrontiamo e ci definiamo una squadra che prende tre gol da tutti, che facciamo schifo, che facciamo cagare, e via dicendo, ragioniamo anche su questa situazione, evidentemente abbiamo dei buoni giocatori, se tutti cercano i nostri, mentre gli altri non li cerca nessuno, compattiamoci, stiamo uniti, io giovedì sarò a San Siro, giovedì sosterrò la squadra, sosterrò Pulisic, sosterrò tutto quello che è AC Milan, tutto, tutto, e farò così da, facciamo un punto, mettiamo un punto di partenza, da ora, da ora, fino alla fine di questa stagione, io sarò difensore di tutto ciò che è AC Milan, da qui alla fine della stagione, perché mi sono rotto degli attacchi dall'esterno, non voglio contribuire, non voglio contribuire a disarticolare, a rendere poco sereno il nostro finale di stagione, a renderlo ricco di polemiche, quindi io, il mio canale, avrà questa mission da qua alla fine della stagione, cercare di unire i tifosi del Milan a difesa del nostro Milan, di tutto ciò che riguarda il nostro Milan. Poi faremo i conti a fine dell'anno, vedremo chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, dove si potrà migliorare, dove non si potrà migliorare, se ci saranno delle cessioni, se invece, come penso io, non ci sarà bisogno di fare delle cessioni, perché non dovremo cambiare metà della squadra, basterà cambiarne due o tre, ma questa è la mia idea, magari non è l'idea di altri, non importa, compattiamoci da adesso a fine stagione, perché io ho metabolizzato che quelli là, di Riffa o di Rafa, vinceranno il ventesimo di cartone, no? Però nutro ancora un po' la speranza che noi si vinca l'Europa League e poi sì che ci divertiamo dopo, eh? Non so se succede, ma farò di tutto, io e il mio canale, per rendere l'ambiente Milan più sereno possibile, tranquillo, per arrivare a quell'obiettivo. Se poi ci dovessimo arrivare, ci divertiremo. un like al video se siete d'accordo con me, mi raccomando, iscrivetevi, campanella per le notifiche e ragazzi, occhio quando andate in giro in macchina, potrebbe passarvi davanti, barella che rotola. State attenti, fate attenzione perché è anche piccolino, quindi occhio, eh? Mi raccomando.